Poi, dopo sferamento, poi inizieremo con l'acqua. Ma anche quando si fa queste cose, cerchiamo di immaginare anche mentre fa soltanto questo movimento, il suo corpo si allunga, c'è sempre sempre il discorso di come stiamo pensando a quel momento. Ok, quindi comincieremo con questo, diciamo, strafinamento della schiena. Grazie. Wow.